Ma salve a tutti ragazzi, com'è Nemo? Oggi con i miei amici andrò a provare la nuovissima modalità Halloween Scatto dell'Orda Attenzione Che in realtà non è nuova Che sì, ma non è nuova? No, ma guarda che c'è da un botto C'è sempre stata da un botto Ah, non lo sapevo Perché io, io non avendo giocato mai... In realtà c'è, però comunque È una bella skin What? Signori, io vi vorrei informare Che una volta ho fatto così tanta cacca Che ho sfondato il cesso Ma visto che io ero molto indeciso su questo atto Sono esploso Allora, allora, allora Lo spawn è a corte di Doom E ho ancora il bug della visuale viola Ah, che bello Round 1 Round 1 Ragazzi, se trovate le seghe, quelle che si muovono Ma basta chiamarle così, è ambivo Ah, vedi io La cosa che hai appena detto è tipo strapina di doppi sensi Lo so, è OP Ma dovro Adesso c'è sto roba Ok, perfetto Uh, c'è il coso che cura tantissimo Le sgoschi Prendo un bel po' di robe qua Che poi verranno utilissime Ragazzi, tutti vicino a me Tutti vicino a me Tutti vicino a me Io prendo questa chest Voglio vedere se c'è Ma... Io ho rifiuto tutto Eh... Qua cos'è? Uh, c'è una gemma C'è una gemma C'è una gemma Let's go Uh, bello Bellut Ma io non ho... Ma? Che strano vederlo qua Ragazzi, c'è una palestra di sfruttare Sì Che strano vedere tutte queste cose nuove in VR Ma non sai che hanno aggiunto... Su relob hanno aggiunto la roba dei... Dei... Degli Halloween passati Davvero? Hanno aggiunto la palce Deo E la palco di Halloween Oh, vabbè Ah, eccolo Ah, ma sono qua Eccolo le casse leggendari E danno una casata Davvero Zombie Esplodite, zombies Cos'è? Cabo Cabo Ragazzi, è pieno di basi degli zombie qua Davide Che cosa? Ho malestra con l'appiccicosa della scorsa season Vado Che scleri Ti specco No, raga Ho calpestato il caricabatterie Cabo Raga, vi consiglio di prendere Cioro Raga, basta che tirate piccolate e li chillate Mamma mia, tutto quel bel loot lì Ok, era un 2 Sì Ok Ma scusa, se lo chiediamo ci dà la roba Ma lo so Vabbè, ti fai vedere? Uh, la motta sega con la nuova No, dai C'è anche quella E se volete mi la prendo io Ok Ok, ho distrutto una delle pietre Con le storte Ah No, 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 raga Sono bloccato, sono bloccato Ah No, no, mi killano Mi killano, mi killano Uh Uuuu Non mi hanno killato Mamma mia Perché mi era spunata una torre Quella lì Storta Ah bo Eh sì Guarda qua che c'è tutto loot Ok, perfetto Perfetto La prendo io, la prendo io Prendo io Dov'è? Raga Dov'è la roba di War Machine? Ecco No No, quel cavolo Uh, round 2 completato Si gode, raga Allora io Mi prendo il polvo per come C'è la drum gun C'è la roba lì di Mida Le do i guantini d'uno No, ma Davvero Ma è rara, bro Anzi no, ti do La metraieta viola No, allora niente Vabbè se la vuoi Motosega Ah, va bene Ma bro, ma bro Sicuro? Bro What? Grazie Ah, ce n'è un'altra qua Ce n'è un'altra lì Willy Se puoi Oui Vediamo com'è Mamma mia Con un po' d'aria Mamma mia Qua è OP La motosega No Cosa Cosa di Di schifo È vero Perché ti mettono il ghiaccio sotto i piedi È fastidiosissimo È vero, è vero, è vero Io penso il game così Ultimo round Vai Uh, carichi l'aga Ah, abbiamo Se andiamo a col vita Sì, sì, sì Ok Ok Eh ma raga Eccolo Ma è già che si è finito tutti i miei colpi raga Ok, no, un po' troppo a questo skybase Eh raga, io ho finito i colpi È un piccolo problema penso Ti serve un'arma Raga, eh, colpi piccoli Una gemma Cosa fanno le gemme Ti danno i Ti danno punti buoni Questa è buona Aspetta Davide, Amedeo Aspetta, Amedeo un po' Via raga Apollo Sti qua che fanno freddo No, ma penso che non ci sente bro Penso che non ci sente Vai, dove sei, dove sei Ecco ti Pippo? Ma che skin hai Pippo? Ah, lo zombie Vado a prendere un po' di colpi I quanti di Doom Ah, ce li hai Li ho trovati A terra Ok raga Eccolo Ah, anche a me, anche a me Mi stanno molestando No, mi killano, mi killano No, no, no Muoio raga Muoio, 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 muoio Ah, me devi implodere Mi hai spinto fuori safe Mi hai amassato Eh, ma anch'io sono morto Ah, no No, è impossibile Bellini, ci sono quelli lì Ci sono quelli lì Che ti mandano il ghiaccio addosso Ed è un casino Però è veramente una bella modalità Molto bella, molto bella Va bene ragazzi Spero che questo video Sia stato di vostro gradimento E nulla Ciao raga Ciao